il magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale oggi vi porto 7 centrocampisti che potreste andare a prendere negli scambi qualcuno magari più per l'asta di riparazione perché potrebbe non essere presente già nelle rose delle vostre squadre vi ricordo come sempre di lasciare un bel like di iscrivervi al canale perché ragazzi usciranno tantissimi contenuti sia per la prossima asta di riparazione ci stiamo ormai avvicinando ma anche come sempre tutte le settimane vi porto un video con i fantaconsigli il giovedì di solito vi porto le due top 11 il venerdì vi porto fantaconsigli in pillole più i miei indici di schierabilità quindi avete un supporto a 360 gradi se non volete attivare la campanellina qui su youtube ma io vi invito ad attivarla perché a volte la campanella non sempre vi avvisa andate a iscrivervi al mio gruppo su whatsapp o al gruppo telegram degli iscritti o al canale telegram perché perché lì vi metto sempre appena esce un video il link o quando sono in live così non vi perdete veramente nulla e potete venire anche nelle live e farmi tutte le domande che volete ma per farlo dovete essere iscritti ultimissima cosa e poi cominciamo in descrizione trovate il link per registrarvi su starks è gratis se depositate almeno 20 euro starks ne regala 15 su starks potete fare tantissime cose comprare i token dei giocatori comprare e venderli io con queste compravendate al giorno devo dire che quei 30 euro al giorno li sto facendo solo con questo poi in più la piattaforma è veramente nuova ma stanno entrando tante persone e ora i giocatori in da una settimana all'altra valgono anche per 300 volte quindi anch'io sto facendo un sacco di plus valenze e in più la cosa più importante quella che consiglio sempre è di giocare al fantacalcio perché ogni due giornate starks mette tanti tanti soldi come premi ci sono 60 premi divisi in tre categorie più token avete più potete giocare a livelli più alti quello che gioco il livello 3 livello massimo e lì c'è tanta carne al fuoco ma passiamo ragazzi a fantalab partiamo con i sette nomi ma prima dei sette nomi vi faccio vedere ragazzi fantalab perché in maniera brevissima se ora dovete fare l'asta di riparazione su fantalab è veramente semplice perché basta che voi clicchiate sull'asta di riparazione crea una nuova asta sincronizzando la leghe fantacalcio cioè voi avete svincolato i giocatori che nella vostra lega dovete mettere sul mercato lo fate su fantacalcio allora cliccate sull'asta di riparazione se non lo avete fatto potete fare direttamente tutto su fantalab quindi importate la lega su fantalab e poi andate e togliete tutti i giocatori ve lo fa fantalab direttamente anche con i crediti quanto costa fantalab ragazzi è un prezzo irrisorio 10 euro e vi dura un anno quindi una volta sola dovete pagare non tutti i mesi 10 euro lo fate il 15 gennaio 2024 fino al 15 gennaio 2025 voi siete a posto siete abbonati a fantalab e su fantalab avete anche un mucchio di vantaggi perché potete fare ora l'asta di riparazione poi potete fare l'asta estiva e vi potete importare le mie fasce potete fare veramente tantissime cose avete un supporto grandissimo per neanche un euro al mese ora andiamo direttamente ai giocatori cominciamo col primo nome Lollo Pellegrini allora per chi lo ha preso all'asta sicuramente è un flop perché siamo a metà stagione anzi una partita una partita in più è iniziato il girone di ritorno due gol totali che per un giocatore come Lorenzo Pellegrini sono veramente pochi ed è vero però ragazzi ci sono segnali di ripresa andiamo a vedere un po i suoi voti vedete di scontinuo al massimo a volte magari ci porta ci porta un 6 poi il 5 e mezzo prima prima ancora un 7 con con il bonus i bonus sono stati come dicevamo veramente pochissimi allora regola sta perché ci porti Lorenzo Pellegrini punto primo ragazzi è un giocatore sottovalutatissimo perché ovviamente chi lo ha preso non è contento di lui e quindi voi potreste andare a prenderlo a veramente poco questo è un giocatore secondo me molto interessante anche da mettere negli scambi multipli un'altra cosa ragazzi ovviamente lo dico perché poi in tanti mi scrivono che faccio lo do per Eira per Pellegrini no ovviamente no lo do Jack Brumento no lo do Candre no no è un giocatore da prendere in uno scambio multiplo in cui dice vabbè mi stai dando Pellegrini che sta facendo pena però io anche ieri l'ho visto in ripresa contro il Milan nonostante la sconfitta 3 a 1 sicuramente è stato quello tra i più positivi non è partito titolare però è entrato bene è entrato bene si è procurato il rigore ha calciato tanto in porta quando quando gli è arrivata la palla lui era è stato sempre pronto a calciare è vero non ha non ha segnato però è un giocatore che secondo me ti dà continuità ti dà certezza di voto perché anche se non è un titolarissimo in questo momento nella rosa di murigno però è uno che ci entra sempre e io sono convinto che se continua così si riprende il posto da da titolare vi dico la mia per me Pellegrini è un gran bel giocatore il problema qui è un po murigno non gli ha saputo cucire un ruolo addosso e poi la Roma gioca veramente male quindi per questo dico se lo prendiamo a poco va benissimo se dobbiamo dare chissà che cosa assolutamente no secondo nome questo forse è un nome più per asta di riparazione che negli scambi perché avere c'è una in un fattacalcio non è semplice però magari per chi fa le aste di continuo magari ogni mese ogni due mesi fanno una piccola asta allora magari già ce lo avete e potete andarlo a prendere è un giocatore che io già circa due tre mesi fa a qualcuno nei fattacalcio all'istone l'avevo fatto prendere perché avevo visto la partita della selenitana e mi era piaciuto costava solamente due crediti ovviamente ragazzi questa parliamo di uno slot scommessa però è un giocatore interessante perché il potenziale lo ha secondo me è uno di quelli che magari può fare un girone di ritorno con tre gol altri due tre assist ecco un giocatore che all'occorrenza può tornarvi utile e secondo me nella selenitana potrebbe avere anche tanto minutaggio perché a inzaghi piace e lui un po anche lui un po discontinuo però lo sta ripagando con le prestazioni perché questo ovviamente ragazzi manca la ventunesima manca la ventunesima giornata perché ancora non è non è non è non è la ventesima giornata scusate perché ancora non è terminata però poi anche contro il napoli nonostante la sconfitta all'ultimo minuto lui il suo 6 e mezzo l'ha portato a casa ed è uno come vi dicevo che ha potenziale perché calcio importa perché prova sempre a fare una giocata e magari metterla dentro per fare l'assist ecco è uno che crea che crea superità numerica perché sa saltare l'avversario è un giocatore da quelli in un fantacalcio a otto da prendere magari come sesto slot che all'occorrenza magari una partita in cui la serenitana potrebbe vincere uno lo può anche buttare buttare dentro terzo nome vi ricordo un bel like ragazzi perché ora cominciano ad arrivare ancora roba più interessante come il flaco colpani e ora qui vi dico anche qualcosa di interessante vado a prendere il mio quadernino come sempre sapete che io studio porca miseria studio perché porta il flaco colpani allora prima andiamo a vedere quello che ha fatto la media voto di colpani ha preso un solo 5 e mezzo e già questo è un dato che molti spesso trascurate lo porto perché in tantissimi mi state chiedendo ricco lo mollo colpani lo mollo è è da un sacco di partite che non segna e andiamo a vedere è dalla dodicesima giornata che colpani non porta bonus però vediamo anche un po il calendario che ha avuto colpani cioè nelle ultime dalla sedicesima il monza ha fatto mila monza ed era difficile fiorentina e monza fiorentina poteva segnare però non erano delle partite più semplici di questo mondo poi il napoli il frosinone e lì c'è andato vicino al gol e poi l'inter quindi non è che abbia avuto chissà quali partite colpani e quindi non vi ha portato bonus però vi dico anche un altro dato che magari può convincervi a dire ma quasi quasi non solo se ce l'ho me lo tengo colpani ma se non ce l'ho lo vado a prendere e ve lo vi dico subito ora il monza c'ha empoli sassuolo udinese e verona squadre che i gol li prendono e qui e qui dovete muovermi subito questa settimana dovete andarlo a prendere è un giocatore che prima non ve lo davano neanche ora ve lo cedono perché ora hanno paura ma non è che nel girone di ritorno il flop è proprio il flaco colpani e io io sono tranquillissimo per me tranquillamente lui può fare altri 5 6 gol o anche fare meglio ragazzi è un giocatore che non è che ce ne siano tantissimi in serie a con queste qualità che poi abbia avuto diciamo una pausa importante è vero ma proprio per questo noi ora dobbiamo andarlo a prendere e devo dire che per colpani ora chiedono poco perché mi sono arrivati veramente tanti scambi alcuni che dico che cacchio stai a dire quindi se ve lo danno vi faccio degli esempi non so un rabbiò un barella che per questi proprio un mkhitaryan ma andiamo subito a prenderlo non vedo non vedo il dubbio c'è chi mi ha chiesto ferguson colpani lì siamo diciamo più al limite però come potenziale preferisco colpani come continuità di voti preferisco ferguson perché magari porta qualche media voto migliore nonostante i gol sono nettamente dalla parte di di colpani però è ovvio che la media voto qui dipende tanto anche dai gol perché magari segni e prendi sette non so se vi ho convinto su colpani ditemelo nei commenti se avete colpani se volete andarlo a pre se volete tenerlo se lo avete o se volete andarlo a prendere se non ce lo avete andiamo al quarto nome vi ricordo i like iscrivetevi al canale e passiamo a valentine carboni a iscrivetevi al canale anche perché oggi ci facciamo una live pomeriggio vi aspetto vi aspetto probabilmente probabilmente la faremo alle 16 30 la live e ditemi nei commenti anche se volete gli shorts quello o magari come dicevamo prima colpani al fantacalcio lo scambi con tizio caio sempronio ditemelo nei commenti se volete qualche nome analizzato e valentine carboni qui ve lo porto per quale motivo il calendario ve l'ho già detto ora il calendario del monza è ottimo quindi potreste andarlo a prendere ve l'avevo citati no forse no ora è a udinese poi verona milan e salernitano non avevo citato il milan e la salernitana quindi capite che ora ci sono cinque squadre su sei che il monza può fare bene e valentine carboni è un giocatore che se lo hanno preso nel vostro fanta potreste farci un pensierino con l'inter magari non ha fatto la sua miglior prestazione non era facile io da ex vi avevo detto potrete buttarlo dentro se lo avete è un giocatore anche abbastanza continuo come vedete dall'undicesima giornata gli ha dato fiducia mister palladino e ora è un titolare di questo monza è anche vero che al monza certezze palladino non ne dà cioè o stai sul pezzo e fai bene oppure ci sono partite in cui ti accomodi panca lo stesso colpani in questo periodo in cui non sta assegnando qualcuna è partito fuori e questo è anche un bene per i giocatori perché così da più importanza anche alla panchina e allo stesso tempo da assegnare ai titolari o fai bene oppure la panca è la e ti accomodi anche tu e questo è un giocatore che a me piace tantissimo io quest'estate ne avevo visti di video su di lui l'unica l'unico dubbio era che andava in una squadra con ambizione come il monza e quindi non era facile potesse ritagliarsi un posto da titolare però dove erano carbonio ristagno il talento si si vedeva e questo è un giocatore che può far bene anche anche meglio in nel girone di ritorno perché ovviamente ha giocato per metà partite considerando che i due gol ha fatti un assist e ora anche le partite il calendario è favorevole è un giocatore che si potrebbe andare ad acchiappare poi c'è Morten Frendrup questo è un giocatore che magari di gol ne porterà uno nessuno però è un giocatore che dà una quantità incredibile è uno che recupera palle è uno che quando è in campo lo vedi basta guardare ragazzi il suo rendimento guardate qui che spettacolo perché tanti tanti direi neanche tantissimi a volte in passato anche io commettevo questo errore cioè questi giocatori che non portano magari i gol non li prendevo però questo è un giocatore sia per l'asta di riparazione sia se qualcuno l'ha preso diciamo tra i vostri amici da poter andare ad accalappiare anche qui magari in uno scambio non secco in uno scambio multiplo però ci prendiamo un giocatore che se mezzo li porta e ne porta veramente tanti è uno che recupera palla e poi si butta si butta anche dentro è vero che ha fatto tre assist ma zero gol però è un giocatore in netta crescita anzi vi dirò di più su friend drop io su di lui ci avevo scommesso quando ancora giocavo a quel gioco tipo stacks so rare e e allora l'avevo preso la sua carta ne avevo prese diverse e e ancora ancora era un giovane anzi forse ancora ce li ho ferme là perché alcune cose non le avevo vendute e io avevo visto già un giocatore importante che è giovane ma con qualità ed è uno che secondo me potrebbe continuare anche in tutto il girone di ritorno gli ultimi due nomi vi ricordo il like iscrivetevi al canale vi aspetto pomeriggio ore 16 e 30 in live e poi passiamo a sandy lovric io ragazzi sto video cavolo l'ho scritto l'ho scritto sabato tutti i miei video il registro il giorno stesso che escono però quello che dovevo dire me lo sono scritto il sabato cavolo purtroppo è arrivato il gol e l'assist di sandy lovric per chi mi segue per chi mi segue già sono due partite che vi dico occhio che lovric in ripresa occhio che lovric in ripresa non solo per l'assist che aveva fatto all'ultima all'ultima giornata e poi purtroppo con la fiorentina con le assist e ora andarlo a prendere costa di più però ancora secondo me ce la possiamo fare andarlo a prendere questo è un giocatore interessantissimo vi dico anche contro la fiorentina vi dico anche perché in forma non solo il gol l'assist ma come sono arrivati cioè quando va a fare l'uno a zero per lo 0 a 1 per l'udinese cioè lui che ruba palla ma la ruba palla nella sua metà campo poco poco oltre era la sua area di rigore ruba palla avanza la dà a lucca che protegge palla e dà palla all'ovric e la cosa è la cosa che più dovete tenere a mente ragazzi è che quando arriva davanti alla porta lui non può calciare perché c'ha davanti ranieri e riesce dopo 60 metri di campo so quanti ne ha fatto a fargli anche due fitte quindi deve deve avere quella forza nelle gambe spostarsi la palla e calciare e calciare sul secondo palo e questo erano i primi minuti quindi uno magari può dire beh erano passati pochi minuti stava bene e lo fa anche nel secondo gol dell'udinese perché lui che parte come un treno resiste anche perché se non sbaglio birachi che prova a buttarlo insieme forse un altro centrocampista lui resiste va sul fondo e anche la lucidità di alzare la testa guardare al centro vedere dove è posizionato il compagno toven e mettergli quella palla dietro non sono cose banali perché vuol dire che sta bene fisicamente e se sta bene fisicamente l'ovric i gol gli assist li fa quello anzi io già tre mesi fa quando si parlava di l'ovric vi dicevo la cosa assurda è che lui i tiri importa ci sono i tiri a partite tiri importa è un momento in cui non entra poi il momento è durato fino a a gennaio però ora è un giocatore che potrebbe svoltarvi in un girone di ritorno quindi è un giocatore che ha anche un alto potenziale perché l'ovric 4 5 gol li può fare tranquillamente anche nel girone di ritorno uno già già l'ha fatto ed è uno di quelli da andare veramente a prendere l'ultimo nome costic anzi sull'ovric devo dire che prima circa due giornate fa in tanti mi dicevano sotto nei commenti o nelle live ma l'ovric lo svincolo e la mia risposta era sempre no oppure lo vado a cedere ma no perché tanto non ti davano nulla se lo andavi a scambiare se lo andavi a svincolare all'asta di riparazione dipende se l'avevi pagato il 4 per cento e continua a fare male ci poteva anche stare ma ora che in ripresa va tenuto l'ultimo nome costic della juve allora altro giocatore non da prendere negli scambi secchi perché è sempre difficile poi trovare qualcuno da dare per lui per me è un giocatore interessante ha fatto pochissimo nel girone d'andata perché costic tre assist sono il minimo sindacale ma gli assist puoi dire vabbè ne fa sei in una stagione per me sotto media per lui però ci può anche stare ma zero gol totali sono veramente pochi pochi sono zero vediamo un po il suo rendimento perché andarlo a prendere pure ora perché oltre ad aver portato pochi bonus le ultime ha preso anche dei brutti voti 5 e mezzo 5 e mezzo 6 poi 5 nonostante la juve stia facendo un grandissimo campionato e allora perché vi dico di andarlo a prendere perché per me è un giocatore veramente bravo veramente forte può capitare magari che uno floppy un girone d'andata per io sono convinto che il suo rendimento nel girone di ritorno migliorerà ha un'altra cosa che non vi ho detto ragazzi c'è il link in descrizione di fantalab registratevi da lì perché altrimenti pagate di più un 5 euro di più per tutto l'anno mentre col mio link vi costa solamente 10 euro fino a gennaio 2025 pagate una volta e siete a posto per tutto un anno anche per l'asta di riparazione di febbraio ma anche per l'asta poi estiva per il prossimo per il prossimo anno e in più su fantalab potete trovare tutte le statistiche i miei indici di schierabilità avete veramente tantissime cose potete partecipare nelle live e farmi le domande direttamente su fantalab se non volete farle su youtube o sulla piattaforma viola visto che vi rimane sempre sempre il mio il mio messaggio chi schiero chi non schiero vi rimane su fantalab quindi se non potete seguire tutta la live lo fate lì e anche dopo 20 minuti mezz'ora un'ora potete andare a riguardare il mio consiglio su chi schierare o sugli scam perché potete farlo anche direttamente su fantalab e vi dicevo per me è un giocatore che deve andare a migliorare poi la juve sarà una squadra che secondo me lotterà fino all'ultimo per lo scudetto la juve è una squadra non è come l'inter perché l'inter è a un qualcosa in più soprattutto a livello offensivo però occhio perché la juve dietro è veramente una squadra forte cioè la juve subisce veramente pochissimo anzi come vi ho detto nell'ultimo video cesni ha preso quattro gol solo contro il sassuolo poi non ha mai subito più di un gol con tutte le altre squadre o un gol o zero quindi la juve probabilmente lotterà fino all'ultimo quindi proverà a giocarsi questo scudetto insieme all'inter e quindi un giocatore che può andare a magari portarci qualche gol è stato anche un po' sfortunato ricordo alcune conclusioni di kostic quasi a rete poi salvataggio sulla linea di un difensore o alcune parate è un giocatore importante perché lui nella sua carriera non so quanti assist abbia fatto parliamo di numeri importantissimi ma anche in serie a se guardiamo un po' il suo rendimento dell'anno scorso perché qui potete guardare veramente tutto vedete tre gol ma dieci assist qua siamo solo a tre assist quindi capite bene che messo in uno scambietto multile cui dice vabbè dammi pure i kostic per riequilibrare un attimino e voi gli mollate un pacco e per me ci fate ci fate alla grande ragazzi il video è finito vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale qui sotto c'è un tasto bellissimo iscriviti di attivare la campanella di seguirmi nei canali telegram o whatsapp che vi lascio in descrizione così non vi perdete nessun video e nessuna live volgi ore 16 e 30 sarò in live qui su youtube ciao ragazzi